Sì Non funziona Sicuramente il merito di chi organizza durante l'anno e per ogni manifestazione c'è tanto sforzo, tanto sforzo, tanto sforzo, tanto sforzo, tanto sforzo, tanto sforzo e tanto sforzo. Sforzo, tanto sforzo. Sforzo, tanto sforzo. Sforzo, tanto sforzo. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.